Good morning Genova! È finito? Volete sapere qual è il mio segreto per riuscire a sopportare la quarantena? Sono pazza! Soffro di schizofrenia compulsiva e ogni mezz'ora cambio personalità. Ora divento insegnante di yoga in diretta su Facebook facendo il saluto al sole. Poi divento madonna e canto like a virgin dal mio terrazzo a tutto il quartiere. Poi divento influencer dando consigli su come vestirsi in una conference cool. A pranzo e a cena divento chef nella mia cucina. Che rico grippa mi fa una cippa! Diventa anche tu schizofrenico compulsivo e la quarantena sarà una cazzata! E potrai dire anche tu Io resto a casa!